Quante uscite avete fatto? Una, due e tre, ieri sera c'era una, ah sì, ieri sera c'era, scusa Costabile, parlo con te, come si è svolta poi la serata, cioè vi abbiamo visto, avete girato, avete fatto queste passeggiote, poi dopo come si è conclusa la serata? Si è conclusa con un aperitivo. A casa sua? No. No? No. Sono due serie diverse, sono due serie diverse Tina. Ah, sono due serie diverse, quando è che è stato a casa sua, scusami? Ieri sera. Ah, sì. Ieri sera. Ieri sera mi ha portato. Ed è stata una serata speciale anche quella. Splendida. Ho avuto il privilegio e l'onore di essere invitato a casa sua. Guarda che a casa sua ci vanno tutti, eh, non è che tu hai avuto questo privilegio. Sì, l'è stato. Perché lei apre la porta di casa a tutti, cioè anche prima. Evidentemente è una donna molto generosa. La mia mia, è certo. Tutti a casa mia passano. Ma comunque, ripeto, è stata una serata davvero molto speciale. Perché la definisce speciale? Che avete fatto? Ma speciale perché è una donna molto attenta e l'accoglienza è stata bellissima. Grazie a tutti.